E' un paradosso che io ho denunciato anche oggi in plenaria, cioè i maggiori sconfitti delle elezioni europee, ovvero i Verdi che sicuramente sono stati il gruppo che ha subito le perdite maggiori, ma anche i socialisti come Timmermans che in tutta Europa vengono additati al pubblico ludibrio, ma anche i Liberal che sono stati affondati dal partito di Macron. Quelli che sono, ripeto, come anche politico ha citato, la testata giornalistica raccontava, sono coloro che hanno preso in mano il destino di Ursula von der Leyen e Ursula von der Leyen si è consegnata a loro. Noi avremmo preferito una scelta diversa, ma ripeto, la rispettiamo e nei giorni che verranno lavoreremo nei contenuti con il nostro modo di fare, serio, responsabile, ma anche particolarmente fermo. Grazie a tutti.